Oggi si sente parlare sempre più spesso del tema della longevità, si sentono sempre più proposte in questo campo, alcune, devo essere sincero, assomigliano più a fantascienza che a scienza, ma è tutto però molto positivo perché porta le persone a riflettere un pochino di più sulle azioni che devono essere fatte per vivere una vita non soltanto lunga, ma una vita di alta qualità, una vita in cui cerchiamo in tutti i modi possibili di prevenire quelle patologie croniche degenerative, quelle tante patologie croniche degenerative che sono effettivamente prevenibili. Sappiamo anche bene che non tutto si può prevenire, ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare. Quindi quelle variabili che riguardano lo stile di vita, che sono soprattutto come mangiamo, quanta attività fisica facciamo e come gestiamo lo stress, sono fondamentali per ridurre il rischio di molte patologie. Però c'è un limite anche in tutto questo, che è un limite che a noi interessa particolarmente per il lavoro che facciamo nell'ambito del neurocoaching, cioè di un approccio neuroscientifico al coaching per aiutare le persone a cambiare stile di vita. Ed è che noi esseri umani non siamo in realtà fatti per fare delle scelte che si basano sui benefici a lungo termine o lunghissimo termine che potremmo avere. Questo è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni. Noi sappiamo benissimo come dovremmo mangiare, eppure facciamo fatica a farlo. Noi sappiamo benissimo che non dovremmo bere, eppure facciamo fatica a rinunciare. Sappiamo benissimo che non dovremmo fumare quell'ennesima sigaretta, eppure non riusciamo a smettere. Quindi è sotto gli occhi di tutti noi, tutti i giorni, questa forte contraddizione tra gli obiettivi razionali a lungo termine che ci prefiggiamo, che sono sicuramente anche di vivere bene, di non ammalarci, ma poi i comportamenti invece diciamo più istintivi automatici che mettiamo in pratica tutti i giorni. Quindi sicuramente un lavoro da fare è quello di comprendere che la salute e la qualità della vita a lungo termine non dipendono da fattori teorici, ma dipendono da cose molto concrete, dai singoli gesti che metto dentro le mie giornate tutti i giorni con regolarità. Io dico sempre che la vita non è altro che l'insieme delle nostre giornate. Beh, se l'insieme delle nostre giornate è caratterizzato da tutta una serie di comportamenti che razionalmente so benissimo che sono controproducenti per la salute, ecco lì è ovviamente l'area in cui dovrei intervenire per correggere. Però questo fenomeno che si chiama incongruenza temporale, cioè questa difficoltà che noi esseri umani abbiamo di concentrarci sui vantaggi a lungo termine rispetto al piacere a breve termine, è una cosa che riguarda la nostra impostazione neurobiologica. Non è una cosa, non è un difetto di alcuni. Siamo tutti fatti così e siamo fatti così per ragioni evolutive perché in un mondo antico e selvaggio e naturale è chiaro che era molto più importante per sopravvivere cercare il vantaggio immediato piuttosto che pensare ai benefici a lungo termine di un comportamento e in più in natura non esisteva contraddizione. Se tu mangiavi in quel momento avevi una chance in più di sopravvivere, ma perché? Perché il cibo era scarso. Oggi che siamo circondati da alimenti questa propensione ovviamente gioca a nostro sfavore. Io parto dal presupposto che questi meccanismi neurobiologici non sono cambiabili, sono educabili leggermente, quindi si può sicuramente lavorare in una maniera tale che la corteccia prefrontale, la parte più razionale del nostro cervello, contribuisca a rieducare le parti più istintive e automatiche, certo, ma un altro aspetto molto importante è garantire che il cambiamento di abitudini non abbia un ruolo punitivo, limitante, restrittivo, cosa che è stato invece per moltissimo tempo, soprattutto quando facciamo leva su fenomeni molto transitori come la disciplina, la forza di volontà, sappiamo tutti che riusciamo per un po' su quella base, ma poi non ce la facciamo più, e invece lavorare su un piano di gratificazioni precoci da inserire all'interno di un percorso di cambiamento, in modo tale che, per dirla in maniera semplice, sostituiamo un'abitudine negativa con un'abitudine positiva attraverso una gratificazione che magari non sarà così ricca e succulenta, passami il termine, come quella che avevi scelto inizialmente, ma comunque contribuirà però ad aiutarti a cambiare comportamento. Se per esempio vuoi iniziare a camminare e sei un sedentario totale, l'idea di mangiare, che ne so, un pezzettino di cioccolata alla fine della camminata è un piccolo stratagemma che ti può aiutare a trovare una gratificazione a quel gesto che altrimenti all'inizio non sarà per niente gratificante. Poi è chiaro che ci sono tanti meccanismi su cui si può intervenire, ma un altro aspetto molto importante è che noi per promuovere la salute e la longevità futura dobbiamo lavorare sullo stare bene adesso, cioè noi dobbiamo costruire un piano di lavoro in modo tale che la persona percepisca a breve termine dei vantaggi, l'essere meno stanco, più energetico, più orgoglioso di se stessi, guardarsi allo specchio e dire però sono più in forma di un mese fa. Il resto, il fatto che ti ammalerai di meno e magari vivrai di più, è importante ma lo dobbiamo mettere un attimo in secondo piano perché non sarà quello il fattore decisivo che ti porterà a rinunciare a quella fetta di dolce per prenderti invece, che ne so, una verdura. Quindi fare leva su questo beneficio a lunghissimo termine è strategicamente sbagliato. Dobbiamo fare in modo che un piano di cambiamento garantisca almeno un po' di gratificazione e soprattutto punti a dare dei benefici che siano percepibili a breve termine dalla persona, perché quel beneficio a breve termine è la gratificazione principale e sarà la ragione principale per cui la persona non mollerà. La ragione principale per cui una persona non molla non è la disciplina e il senso di sacrificio, ma è la gratificazione. Tutte le persone che mangiano sano e si allenano regolarmente non ti parleranno mai di disciplina nel senso di sacrificio, ma ti diranno lo faccio perché mi piace.